Assieme ai nuovi smartphone della serie Galaxy S23, Samsung ha annunciato quattro nuovi notebook della famiglia Galaxy. Galaxy Book 3 Pro è il primo modello dotato di design clamshell e disponibile in due differenti versioni, con schermo da 14 oppure 16 pollici. Galaxy Book 3 Pro 360, e il nome lo suggerisce facilmente, è un notebook due in uno convertibile, ha lo schermo ruotabile di 360 gradi, che può essere quindi posizionato sotto la tastiera, trasformandolo in un vero e proprio tablet. La vera novità è rappresentata da Galaxy Book 3 Ultra, un modello destinato ai creator. È dotato di processore Intel Core di 13esima generazione, come del resto anche di tutte le altre novità, che però in questo caso è della famiglia H, quindi ha potenza più elevata. Troviamo in questo modello anche una scheda video dedicata, un modello GeForce RTX 4050 oppure 4070 a seconda della versione. Galaxy Book 3 Pro 360 e Galaxy Book 3 Ultra sono dotati di schermo a 16 pollici di diagonale, ovviamente di tipo touch nel modello due in uno. Per tutti i notebook troviamo uno schermo con risoluzione di 2880x1800 pixel, con rapporto di 16 decimi tra i lati. Il pannello è di tipo Dynamic AMOLED 2X, in grado di garantire una luminosità estremamente elevata. Altra caratteristica tecnica peculiare è la frequenza di refresh massima, che tocca i 120 Hz. Spessore compatto per tutti i modelli, chassis in alluminio particolarmente resistente e un gran numero di porte di comunicazione, con due USB-C di tipo Thunderbolt 4, una USB-A e un connettore HDMI per uno schermo esterno. Queste le caratteristiche comune a tutti i quattro nuovi modelli. Li vedremo sul mercato nel corso del mese di febbraio 2023.